Io mi sono profondamente stancato, caro Enrico Letta, di sentire attacchi personali o di sentirmi dire che ti ho dato una fregatura. È giusto che i tuoi lettori sappiano che te la sei data totalmente da sola la fregatura. Sapevi perfettamente che non avrei accettato un altro patto, che è una cosa che solo una mente molto confusa può pensare di fare, prima di firmare su un'agenda Draghi e poi di firmare un altro patto che un chi dice che l'agenda Draghi non esiste. Te l'ho detto giovedì in riunione, ti ho scritto un WhatsApp venerdì, ho chiamato sabato Franceschini e tu hai concluso il patto come se niente fosse, per una ragione semplice, pensavi che non avendo l'esenzione con certezza delle firme non ci saremmo mai leati i correnzi e non saremmo andati fuori. Questa è la storia e purtroppo Enrico il problema è che ti sei fregato da solo. Questa è la gravità. Un leader politico che guida una grande coalizione, a cui io auguro di avere successo, almeno per il Partito Democratico, che si frega da solo. Ecco, io penserei molto su questo e molto meno ad insultare gli altri. Grazie.